In questo video inizieremo ad introdurre i metacaratteri delle espressioni regolari, ovvero caratteri speciali che, se inseriti all'interno delle regex, assumono significati e effetti particolari. Buona visione! Iniziamo dal punto. Il punto all'interno di un'espressione regolare prende il nome di wildcard e corrisponde a qualsiasi singolo carattere ad eccezione del newline. Ma come mai proprio questa singola eccezione? Perché il Perl considera comune la possibilità che si voglia utilizzare le espressioni regolari su una stringa ottenuta da input di tastiera. In questo caso, come ormai ben sapete, viene implicitamente aggiunto il newline alla fine della stringa e se il punto non escludesse automaticamente il newline dal suo match, potrebbe tecnicamente trovare corrispondenza con qualsiasi stringa ottenuta in questo modo. Almeno che, ovviamente, non ci ricordiamo noi di togliere manualmente il newline alla fine della stringa. Nell'esempio, si effettua il match con la stringa contenuta nella variabile saluto con il pattern ciao con wildcard finale. Eseguiamo lo script corrispondenza trovata, poiché il wildcard trova corrispondenza con il punto esclamativo poiché il wildcard, ovvero il punto, è alla fine di ciao alla fine di ciao c'è punto esclamativo punto esclamativo è diverso da newline, quindi corrispondenza trovata. A riprova di quanto abbiamo detto prima sostituiamo il punto esclamativo con il newline, salviamo rieseguiamo nuovamente lo script nessuna corrispondenza trovata poiché, come abbiamo detto, il wildcard trova corrispondenza con qualsiasi carattere ad eccezione del newline. Ma come facciamo se vogliamo invece verificare la presenza di uno o più punti all'interno di una stringa? Guardiamo l'esempio. Se si utilizza il punto all'interno di un'espressione regolare esso non viene considerato come carattere, bensì come wildcard, ok? Quindi se eseguiamo lo script non abbiamo il risultato sperato poiché invece di cercare il carattere del punto all'interno della stringa abbiamo cercato la corrispondenza con un carattere qualsiasi ad eccezione del newline e quindi abbiamo corrispondenza trovata in output. Per risolvere il problema basta semplicemente aggiungere un backslash prima del punto per indicare all'interprete di considerare in questo caso il punto come carattere anziché come metacarattere. E infatti se rieseguiamo il tutto nessuna corrispondenza trovata poiché il punto non è presente all'interno della stringa aggiungiamone uno qua rieseguiamo di nuovo il tutto e stavolta corrispondenza trovata poiché il punto a questo giro è effettivamente presente all'interno della stringa. E se invece si volesse cercare un backslash? Guardate un po' casino se eseguiamo lo script. Errore Search Pattern Not Terminated Questo accade poiché inserendo il backslash all'interno dell'espressione regolare indichiamo all'interprete di considerare il carattere successivo come semplice carattere. In questo caso il carattere successivo al backslash è il forward slash che indica la chiusura dell'espressione regolare e quindi non essendo interpretato come carattere di chiusura della regex al momento dell'esecuzione dello script la nostra espressione regolare risulta sempre aperta sollevando errore. Quindi se il carattere successivo al backslash non viene interpretato dall'espressione regolare e considerato quindi un comune carattere la soluzione è aggiungere un backslash prima del backslash per considerare l'ultimo backslash inserito come semplice carattere. eseguiamo lo script e come vedete all'interno della stringa viene trovata correttamente la corrispondenza con il backslash. Oltre che al wildcard vi è inoltre un altro metodo per ottenere il solito risultato ovvero lo shortcut backslash n maiuscola è completamente equivalente al wildcard quindi corrisponde a tutti i caratteri eccetto il newline. infatti se eseguiamo lo script corrispondenza trovata poiché corrisponde con il punto esclamativo ma sostituendo punto esclamativo con newline nessuna corrispondenza trovata poiché come abbiamo detto come il wildcard corrisponde a tutti i caratteri eccetto il newline. è possibile specificare quante volte può ripetersi una parte del pattern all'interno di una stringa utilizzando i quantificatori chiamati anche ripetizioni o operatori di ripetizione. partiamo dal più semplice ovvero il quantificatore punto interrogativo questo quantificatore indica che il carattere precedente può ripetersi da 0 a una volta quindi il carattere è classificato opzionale nell'esempio si indica attraverso il quantificatore punto interrogativo che il carattere precedente quindi il trattino è un carattere opzionale ovvero si può ripetere da 0 a una volta se eseguiamo lo script corrispondenza trovata perché il trattino viene individuato ugualmente se togliamo il trattino e si riesegue di nuovo lo script di nuovo corrispondenza trovata poiché il trattino è opzionale il problema nasce qualora si abbia la necessità di indicare che un carattere può ripetersi da 0 a n volte dove n non è un numero definito ma diamo un'occhiata all'esempio successivo per capire meglio lo scopo di questo programma è riconoscere in ogni circostanza la parola weekend letta da input sia con trattino sia con più trattini quindi in ogni salsa belli fieri cosa facciamo andiamo a classificare opzionale il trattino tramite il quantificatore punto interrogativo e lanciamo lo script ma guardate un po' cosa succede allora inseriamo weekend senza trattino e tutto funziona corrispondenza trovata inseriamo weekend con il trattino e anche qua corrispondenza trovata ma ora facciamo che si inserisce weekend con più trattini aia nessuna corrispondenza trovata perché il quantificatore punto interrogativo cosa fa? indica che il carattere precedente può ripetersi da 0 a 1 volta non da 0 a n volte bel problema fortunatamente la risolviamo facile facile utilizzando il quantificatore asterisco questo quantificatore fa esattamente quello di cui abbiamo bisogno indica che il carattere precedente può ripetersi da 0 a n volte quindi classifica sempre opzionale il carattere ma non limita le sue potenziali ripetizioni rieseguiamo di nuovo lo script e vediamo allora weekend senza trattino perfetto weekend con un trattino perfetto weekend oddio magari con troppe no week trattini end corrispondenza trovata funziona a meraviglia se invece si vuole indicare che un determinato carattere si deve ripetere da 1 a n volte quindi carattere non opzionale si utilizza il quantificatore più rieseguiamo lo script allora weekend con un trattino corrispondenza trovata weekend con più trattini corrispondenza trovata weekend senza trattino nessuna corrispondenza trovata perché con questo quantificatore il carattere si deve ripetere almeno una volta e se invece volessi indicare con precisione quante volte si deve ripetere un carattere in una stringa come devo fare si deve utilizzare le parentesi graffe e inserire al loro interno il numero preciso di ripetizioni del carattere precedente nell'esempio si accetta in input solamente la stringa scubidoo scritta correttamente quindi la o di scubi si deve ripetere esattamente due volte e la o di do idem vediamo se funziona allora scriviamo scubi scubido nessuna corrispondenza trovata giustamente proviamo scubido nessuna corrispondenza trovata proviamo ora scubidoo nessuna corrispondenza trovata ora proviamo a scriverlo correttamente scubidoo corrispondenza trovata è inoltre possibile indicare con precisione il range di ripetizione di un carattere lo script che ho preparato ci dice se abbiamo scritto correttamente la parola obiettivo che come saprete è corretta sia con doppia che con singola b vediamo un po' scriviamo obiettivo con abissola corretto obiettivo con due b è corretto e obiettivo con tre b non è corretto poiché ho indicato nell'espressione regolare che il carattere b si deve ripetere esattamente da una a due volte per concludere è possibile infine indicare solamente il numero minimo di ripetizioni in questo caso il carattere precedente deve ripetersi almeno due volte per trovare corrispondenza e non avendo specificato il numero massimo di ripetizioni può ripetersi all'infinito quindi l'intervallo è da 2 a n proviamolo proviamo a scrivere scoby nessuna corrispondenza trovata perché si deve ripetere almeno due volte quindi proviamo con scoby corrispondenza trovata e proviamo con scoby corrispondenza trovata bene direi che pure per questo video è tutto lascio ai più volenterosi il link per scaricare gli esercizi in descrizione e a proposito degli esercizi in mezzo ad essi ho piazzato un bel trappolone in esploso che non è stato volutamente mostrato in questo video vediamo se qualcuno di voi riesce senza barare ovviamente a capirci qualcosa facciamo che i primi tre che risolveranno l'enigma riceveranno un bel cesto di natale eh inoltre vi volevo anche avvisare che potrei anzi a dire la verità ho già rallentato un po' la pubblicazione dei contenuti perché sto cercando di migliorare un po' po' la qualità del video e poi vabbè è anche il periodo del natale sono un po' incasinato vabbè dai mi sono dilungato abbastanza per qualsiasi domanda vi invito come al solito a lasciare un commento a risentirci a rispettare